Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Trattato di Lisbona, atto secondo, veniamo incontro a tutte le obiezioni mosse mosse da vari blogger e fondamentalmente dalla amica blogger UFFX3 che mi rimprovera nei commenti di rispondere il caro amico, ma sul suo sito non c'è scritto però il suo nome, sul mio c'è scritto Serafino Massoni, sul suo il nome non figura, se lei mi ha scritto tante volte col suo nome di donna, ma io non me li ricordo, non si può pensare che uno si ricordi tutti i nomi, se non li vede scritti nella home page, poi se li dimentichi che mi dispiace, non l'ho fatto apposta, va bene? E poi osservo anche che in questo mio sito, nella pagina dei commenti, non c'è mio, io non ce l'ho messo mai il filtro, non mi piacciono i filtri, se mai dopo, dopo che ho visto dei commenti, diciamo così, eccessivi, eccessivi, eccessivi nei miei confronti, dopo, molto, molto, molto dopo, dopo che i commenti sono apparsi e non li cancello tra l'altro, dopo posso fare il blocco, ma il blocco non è una censura, vi ho già fatto il video, blog is not censure, e sulla mia pagina trovate tutto, io non faccio il filtro preventivo, non mi piace, io sono per la trasparenza, ho imparato dal mio maestro Marco Pannella, dalla mia maestra Emma Bonino, sono fatto così, per la trasparenza, tutto, 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 appare tutto, 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 non vi appare mai la dicitura, questo commento è in sospeso, questo non vi appare mai. Allora, il trattato di Lisbona è stato approvato democraticamente dai rappresentanti dei vari stati europei, democraticamente eletti, dai popoli dei vari stati europei, democraticamente eletti, e se vuol contestare l'operato di Romano Prodi, di Giorgio Napolitano, di D'Alema, come fa l'amica UFFX3, se vuol contestare? E vabbè, se si dice che Serafino Massoni fa disinformazione, ora bisogna dire anche che hanno fatto disinformazione, Giorgio Napolitano, Romano Prodi e D'Alema, che l'amica Blocher l'ha detto proprio chiaro e tonto, in un commento l'ha scritto, ha citato negativamente Romano Prodi, che non è un oligarca, Giorgio Napolitano, che non è un oligarca, e anche D'Alema, che non è un oligarca. C'è paura che si faccia una oligarchia? Le oligarchie ci sono sempre state, da che patriarcatto è patriarcatto? Ci sono sempre state le oligarchie, sempre state le oligarchie, da quando è nata la proprietà privata e si è battuta la moneta, coniata la moneta, c'è sempre stato il signoraggio e ci sono sempre state le oligarchie. Il trattato di Lisbona apre la strada alla dittatura? Ma non c'hanno mica avuto bisogno di un trattato di Lisbona? Francisco Franco, Benito Mussolini, Adolf Hitler per fare le loro dittature? Saranno proprio gli Stati Uniti d'Europa che controlleranno che nelle piccole patrie, nei piccoli campanili non nascano dei piccoli dittatori sudamericani. Quindi è nata democraticamente, il trattato di Lisbona è nato democraticamente, è stato firmato dai governanti dei singoli paesi, governanti eletti democraticamente dai popoli dei singoli paesi. La pena di morte? La pena di morte? Leggiamo un po' la pena di morte. Articolo 1. Abolizione della pena di morte. La pena di morte è abolita, dice il trattato di Lisbona. Nessuno può essere condannato a tale pena o giustiziato. Poi articolo 2. Diritto alla vita. Ognuno ha il diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla pena di morte o giustiziato. E si continua, si continua così all'infinito contro la pena di morte. Si continua all'infinito così. Ci sono dei codicilli? Ci sono dei codicilli ambigui? E verranno tolti questi codicilli ambigui? Se non altro perché in Italia abbiamo Marco Pannella e Demma Bonino che da soli hanno mobilitato il mondo ed hanno ottenuto la moratoria nei confronti della pena di morte. Da soli hanno mobilitato il mondo e hanno ottenuto gli amici Marco Pannella e Demma Bonino la moratoria della pena di morte. La pena di morte tra l'altro c'è negli Stati Uniti. Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America. Sono diventati uno Stato federale. Mi dice l'amico blogger BananaSpeed234. Ma loro sono andati a votare. Si sono andati a votare però hanno ottenuto la pena di morte. E invece noi nel Trattato di Lisbona c'è scritto chiaro e tondo l'abolizione della pena di morte. Cioè ove ci sia la pena di morte in qualcuno di questi Stati deve essere abolita. Ma più chiaro di così cosa si deve dire? Bisogna proprio andare a cercare il pieno nell'uovo per acchiappare, come si dice, per acchiappare i visitatori? Bisogna per forza fare polemica? Ma sarà meglio andare verso gli Stati Uniti d'Europa che restare tutti divisi? No? Non l'abbiamo fatto così pure per l'Unità d'Italia? Ma che dovevamo restare tutti divisi? Il processo di unificazione dell'Italia ed ora il processo di unificazione dell'Europa. L'oligarchia? Ma le logarchie ci sono sempre state. Non ci sono forse gli oligarchi in Russia? E non ci sono i grandi magnati del petrolio negli Stati Uniti? E non sono mica andati a seguito del trattato di Lisbona agli oligarchi? E poi i migranti? Io l'ho impostato, il mio video l'ho fondato soprattutto sui migranti. Ma guardate che la questione dei migranti non finisce mica domani o dopo domani. Il mondo continua a crescere, siamo se i migranti continuano a crescere, continueranno a venire i migranti per altri due, tre, quattro decenni. E allora non è forse giusto che i migranti siano accolti dagli Stati Uniti di Europa dove ci sarà una normativa omogenea per tutti gli Stati in maniera che possano essere accolti nella maniera più civile possibile. E magari si possa provvedere anche a livello omogeneo, a livello europeo, a livello omogeneo ad una legislazione che preveda che i migranti che lavorano venga data al più presto possibile la cittadinanza e al più presto possibile il diritto di voto, come dice Gianfranco Fini e come dicono tanti altri. Ma va bene cari amici, mi raccomando, bisogna riflettere. Qua ce l'ho, ce l'ho, tutto il malloppo, state tranquilli che non mi accontento di andare sulla pur nobilissima Wikipedia. Chiaro? Va bene? Ah e ricordatevi, scrivete tutto quello che vi pare perché nella mia pagina dei commenti non c'è il filtro e non ci sarà mai. Va bene? Grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.